Buonasera a tutti, tutto è molto a letto calcio, dal ormai vicepresidente ed ex capitano dell'Ide, Giorno Zaretti, detto Cupi, Paola nell'intimità mi chiama ancora il trattor, però nonostante l'età che non è per i polpacci ragazzi, ci tenevo tantissimo a salutarvi anche quest'anno, soprattutto al Presidente e al Mister, a Fabiano e a Simone e a dirgli di stare tranquilli che i risultati con questi ragazzi non arriveranno mai. Solo acqua naturale fuori dal frigo tra l'altro, questi ragazzi si ammazzano e si spacca la merda e poi andano a giocare, ma dove cazzo volete andare? Ma dove cazzo volete che vadano? E poi non avete visto come si pettinano? Ma come cazzo si pettinano? C'era il 7 alla mattina, si fa esplodere un magnum in testa e poi esce di casa cazzo, ma come si fa? Io in 35 anni il ciufo sempre a posto, anche quando partevo sulla fascia non si muoveva nei capelli e stavano bloccati. E vi saluta tanto anche il mio moglie Paola, che è qui davanti alla TV, che mi dice di salutare in particolare, non so perché, Lorenzini Bibuzzi, che dice che sono due bei pezzi di manzi argentini. A proposito, Lorenz, ti aspetto a casa mia una volta che capiti qua a Milano, che Paola fa l'asato, chiamiamo anche il Cuscio, Samuel e il Priscipe, così ricordiamo i vecchi tempi di quando da piccoli giocavamo insieme, eh, in argentino? Volevo salutare anche le Fedez e Roberto, esperti, sono un grande fan. Il tuo ultimo singolo è bellissimo, fa veramente cagare, lo ascolto sempre prima di andare al cesso, eh? È fantastico. Volevo salutare tanto anche il loco, il loco, Andrea Stacchini, per fare i complimenti per le belle parate di quest'anno. Ah, ovviamente saluto anche il suo amico immaginario, perché parla da solo, Stacchini. E niente ragazzi, vi saluto, un saluto caloroso dal vecchio capitano dell'Inte, Ari Azzanetti, a presto, vi abbraccio, ciao. E abbiamo pupi!